Greta, Nito e Brumo. Tre orsi sfruttati da attività circensi e detenuti in condizioni orribili. Una missione speciale di salvataggio, un po' come quelle dei film, ma con più scartoffie da compilare. Una collaborazione di persone, associazioni, istituzioni, italiane ed europee, per portarli in un luogo più consono e loro fa bisogno. Ci sono traumi per i quali non è più possibile tornare indietro. A tal proposito Dostoevsky diceva siamo tutti esuli del nostro passato. Si può solo provare ad andare avanti, un passo dopo l'altro. Questo è il motivo per cui questi tre orsi non possono essere più rimessi in natura ed è per questo che adesso sono tutelati all'interno di una riserva, nella speranza che certe cose non si ripetano. Alla prossima! 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 Alla prossima!